E' arrivato l'ennesimo riconoscimento per i volontari della Croce Blu. Sì, in effetti è così. Domenica un nutrito gruppo di volontari della Croce Blu di Gromo, in rappresentanza dei molti che hanno prestato servizio dal 24 di agosto del 2016 fino ai primi mesi del 2017 nel cratere del sisma del centro Italia, sono stati convocati in un incontro di livello nazionale presenti i dirigenti nazionali e di protezione civile di Ampas, del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, molte autorità e sindaci dei comuni del cratere del sisma per riconoscere i volontari che l'hanno operato, un vero grazie per quanto sono stato in grado e hanno potuto fare e quindi questo appuntamento ci ha reso particolarmente orgogliosi e felici di questo riconoscimento. Un'esperienza che vi ha lasciato sicuramente qualcosa anche sotto il punto di vista umano. Assolutamente sì. Un anno fa noi consognavamo un camper che era partito e è stato donato da un privato di Clusone a un cittadino del comune di Castel Sant'Angelo sul Nera che ahimè purtroppo vive ancora in quel camper con il quale abbiamo degli assidui e costanti contatti per tenerci informati delle sue situazioni e soprattutto per far sì che anche attraverso lui in questo comune vi sia una ripresa delle attività che lui in particolare segue che sono le attività rurali e di allevamento. Devo anche dire in questo aspetto che per esempio quest'estate a giugno l'Associazione dello Spirito del Pianeta che normalmente si ritrova tutti gli anni su un'iniziativa, su nostra indicazione aveva coagulato là gli sforzi di una raccolta fondi molto interessanti e quindi quello che in parte è stato fatto a Castel Sant'Angelo sul Nera di fatto è anche frutto della solidarietà bergamasca, dell'Alta Valle Seriana e della terra bergamasca. Certo sei o sette mesi di terremoto hanno indotto in tutti i volontari delle esperienze personali, delle emozioni personali, delle amicizie personali con la gente di laggiù che non possono essere dimenticati ma anche dalle amicizie tra volontari stessi. L'occasione di domenica a Firenze con questa grossa iniziativa denominata Cuore al Centro ha dato la possibilità a oltre 3.000 volontari dell'Ampas di rincontrarsi dalle Alpi alla Sicilia come si suol dire perché il nostro primo incontro era avvenuto proprio in occasione del campo di Ematrice. Quindi noi Ampas è stata praticamente la prima ad attivare un campo ad Amatrice a partire dalle prime ore della notte del 24 e in questo campo sono girate veramente centinaia di volontari che hanno prestato servizio. Tra questi, quindi tra noi, tra loro, tra tutti si è creato uno spirito di amicizie per cui continuano anche i contatti attraverso i social, attraverso il telefono ma anche attraverso questo tipo di incontri.